Eder, Mech, Pallister Il processo di sequenziamento, rendendo difficile una comparazione con il profilo genetico di Luis da Silva, l'unico indagato nel caso. La qualità dei reperti è stata compromessa, il che potrebbe aver influito sulla quantità già limitata di materiale biologico disponibile per gli esami. In merito agli accertamenti condotti recentemente, Barzan ha riferito che i tamponi anali e vaginali prelevati hanno rivelato esclusivamente il DNA di Pierina Paganelli, come previsto. Poiché non ci sono stati segni di violenza sessuale, le autorità hanno recentemente effettuato un sopralluogo sul luogo del delitto per cercare di ricostruire gli eventi che potrebbero aver avuto luogo nella notte dell'omicidio. Questo è stato fatto per chiarire i tempi e i percorsi seguiti dal presunto assassino della donna. Permettendo così agli investigatori di rafforzare la cosiddetta prova regina che ha portato all'arresto di da Silva, un 34enne senegalese che viveva nelle vicinanze della vittima, Barzan ha spiegato che l'arresto di da Silva è avvenuto in seguito alla visualizzazione di un video di sorveglianza di una farmacia, in cui è stata ripresa una persona di origine non caucasica che rientrava in via del ciclamino con un oggetto in mano. Per cristallizzare questa ricostruzione, gli investigatori hanno coinvolto un individuo di origini senegalesi per comparare i tratti fisici e il comportamento con quello dell'indagato. Un aspetto chiave emerso dalle indagini è un'aperizia che suggerirebbe un movimento caratteristico di da Silva, in particolare un'oscillazione della spalla. Secondo l'ipotesi investigativa della procura, questo movimento potrebbe confermare che l'uomo ripreso nel video è effettivamente da Silva. Barzan ha voluto rimarcare anche un altro elemento rilevante, L'alibi di Manuela Bianchi e di suo fratello Loris è considerato solido e inattaccabile. La sera del 3 ottobre 2023, tra le 22 e le 22 e 30, entrambi si trovavano nell'appartamento di Manuela. Un fatto che, secondo il criminalista, conferma la loro innocenza. I suoi assistiti sono convinti della verità delle loro dichiarazioni e si dicono fiduciosi riguardo all'andamento delle indagini future. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ever Metallica!